Ciao, complimenti innanzitutto ringraziandovi per la partecipazione l'emozione era tante e il collega ha un po' di emozione e si fa la cina di particolare abbiamo visto le tazzine artistiche molto belle, complimenti e cosa c'era sulle tazzine? grazie al suo elevato contenuto di grassi pari al 4,4% ma soprattutto di proteine pari al 3,4 grammi per litro porta la produzione di una schiuma densa, morbida e molto compatta e ci porteresti con te a Bogotà la schiuma si forma per il pezzo delle proteine gentilissima, grazie